Il problema del mercato non possiamo parlare, al momento posso solo confermarvi che è una minorità e che sarà il processo parte oggi, quindi voglio che siamo primissimissimi da tutte e che pensiamo che più o meno metà anno, non so, l'unio dovrebbe essere come il fatto, ma contro questo non posso aggiungere altro. Mentre i benefici attesi, l'unico numero che abbiamo comunicato, comunicaremo anche il mercato, è che da queste operazioni, le operazioni obviate nel corso dell'anno, ci prendiamo il beneficio di 30 centesimi del mercato.